Era il 1993 e il mio collega, sapendo della passione che avevo per i Monty Python, mi ha regalato le otto videocassette del documentario girato nel 1990 e prodotto nel 1992 dalla BBC Pole to Pole, da Polo a Polo, con Michael Pelling. Allora ero un appassionato non solo dello spazio e ancora credevo a quello che mi è stato insegnato, ovvero nella Terra Globo. Ma mi sono ricordato che Michael non era riuscito ad arrivare al Polo Sud dall'Africa. In Europa era inverno mentre la città del capo era estate e so che ha dovuto abbandonare l'Africa e spostarsi in Argentina. Ascoltiamo la fine del settimo episodio, l'inizio dell'ottavo, e tirate le vostre conclusioni. 7000 miglia e quasi tre mesi dopo aver raggiunto Portside, l'inconfondibile forma della montagna Table segna la fine dell'Africa. Penso che l'Africa mi abbia cambiato finché non ho raggiunto Palungu. Ero un inguaribile ottimista, ma qualcosa ha iniziato ad andare a restortola ed ho raggiunto il città del capo da irrimediabile fatalista. Quel che sarà, sarà. Dalla cima della montagna Table si può vedere il punto dove gli oceani indiano ed atlantico si incontrano. Oltre quelle 2000 miglia e mezzo sopra l'orizzonte c'è l'Antartide. Ma lo spettacolo più toccante di tutti è giù nel porto. La nave da rifornimento dallo scafo rosso che abbiamo inseguito per tutta l'Africa. Alla fine ce l'abbiamo fatta, ma il nostro appello per un posto a bordo della Golas è fallito. E quando domani salperà per l'unico viaggio dell'anno tra città del capo e l'Antartide, noi saremo ancora qui. Il viaggio sembra sia finito. Il nostro piano per raggiungere l'Antartide via nave da città del capo è fallito. Ma abbiamo scoperto che c'è una compagnia privata la quale dice che potrebbe portarci al polo. Dobbiamo rischiare con loro o tornare a casa. Ma la loro base è nell'America del Sud, alla fine del continente sbagliato. Ovviamente Michael Pelling ha dovuto spostarsi dall'Africa del Sud a Rio de Janeiro e poi a Santiago del Cile. Se usiamo Google Maps ci indica questa rotta, ma proviamo solo a fare questa ricerca da città del capo a Rio de Janeiro, 22 ore, un solo volo, senza scalo da 22 ore? Ma dai! E allora facciamo una ricerca sui voli. Da città del capo a Rio de Janeiro, 30 ore e 25 minuti con un solo scalo a Londra? 35 ore e 45 minuti con due scali, Adis, Abeba e San Paolo. 37 ore e 15 minuti con due scali, Adis, Abeba e San Paolo. 35 ore e 45 minuti, sempre con due scali, Adis, Abeba e San Paolo. 41 ore e 50 minuti, eccetera, eccetera, eccetera. Se volete divertirvi, cercate i voli da città del capo a Santiago del Cile e scoprirete che passano tutti spostandosi nell'emisfero nord. Pensateci gente. Vi ricordo il secondo canale YouTube con l'ultima pubblicazione, perché mentono. Decodificare l'inganno. E smettete di venire a commentare che si vede la curvatura da un aereo di linea, perché è il vostro credo. Informatevi. Oltre a tutte le voci su indice alfabetico, ve lo spiega anche il vostro focus. Dovete andare ad almeno 18 chilometri di altezza. Ma anche questa non è la misura per vedere la curvatura. La curvatura non c'è. Viviamo sul Regno Piano.